Il 100% dei soggetti dichiara di avere ciglia più lunghe, più voluminose dopo l'applicazione con una tenuta infallibile fino a 12 ore L'iconico scovolino a spirale lavora perfettamente le ciglia rivestendole di un film resistente flessibile per uno sguardo penetrante, ciglia panoramica, effetto 360 Zoom 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 Sono molto sorpresa perché non gli davo una lira io a questo scovolo fatto così Very easy application Cioè veramente anche un principiante nel makeup riesce a stendere questo mascara Ecco l'unica cosa è che io avendo le ciglia molto molto ricce Questa situazione è inevitabile, è un po' messi come situazione Un po' messi Vediamo le ciglia inferiori Devo dire che anche qua la stesura non è per niente male L'unica cosa è che lascia macchia sulla palpebra, sia su quella superiore che quella inferiore E' un po' messi come situazione